E' tipico di questo paese, è sempre colpa di un altro, è sempre colpa di quello che veniva prima, di quello che ha fatto il lavoro prima, che se cambi dentista, quello ti visita e fa la faccia angosciata che tu vorresti morire e ti dice guarda io non parlo mai, male dei colleghi, ma qui le hanno combinato un disastro, ti è, guarda che roba, che tu non hai proprio la scienza per contraddirlo e neanche per dubitare di quello che dice, e comunque il problema non si pone perché hai ferri in bocca e non puoi parlare, per cui abbozzi e ti sottometti, muto, impotente, e paghi 1200 euro. Stessa cosa se ti si rompe il motorino e lo porti da un meccanico che non conoscevi, quello guarda il motore e si mette a ridere, cioè ride proprio, chi ce le ha messe le mani qui eh? Un delinquente ti ci ha messo le mani, guarda qua che roba! Dice la stessa frase del dentista, stessa cosa con l'idraulico che ti dice che quello di prima ha creato, forse, chissà, apposta, tutta una situazione terribile di calcare per cui è tutto da rifare. Stessa cosa con il muratore che accusa chi ha fatto il lavoro prima di aver usato materiali scadenti e in disuso per risparmiare sulle spese. Quello di prima, un vero delinquente! Stessa cosa con il governo appena insediato che trova un buco di mille miliardi di debito lasciato dal governo precedente, e al precedente governo non gli sta bene che si dica così, allora accuse il precedente ancora, che sua volta accuse il precedente fino a risalire a un governo talmente indietro nel tempo che sono ormai tutti morti e che pure nelle tombe bofonchiano che la colpa è di quelli di prima. E tutto il paese va avanti così, non susseguirsi di truffe di cui è responsabile sempre quello di prima, e quello di prima ancora, e comunque mai di chi la fa in quel momento. E questa è una piccola magia, tutta italiana, milioni di cittadini e nessuno ha una sola responsabilità. Ed è magnifico, perché la responsabilità è come una palla che rimbalza in un campo, è la colpa, se l'abbiamo persa, è del centrocampista che accusa il difensore che dice che il mediano è un mentecatto. E questo vale per tutto il paese. E' una grande catena di Sant'Antonio, è quasi una festa per tutti tranne per chi viene fregato e si guarda indietro con un vago senso di malinconia, di disagio. Perché è impossibile capire da dove la fregatura provenga. Forse da altre epoche, da tempi lontanissimi, in cui si girava a scalzi e si moriva di vecchiaia a 30 anni, ma poi subito gli torna il buon umore. Perché una sola, così come la ricevi, la puoi anche restituire. Grandi professionisti noi siamo in questo gioco a ribasso, dove vince sempre il più audace sfacciato. Ma si figuri, fosse per me, lei l'avrà capito che se dipendeva da me altro che. Perché? Che significa? Cosa dicono? Ma non ha importanza. Perché nel frattempo si è sviluppato un'intera comunità di persone fintamente affrante per disastri commessi da altri, ma subito pronte, se ben ritribuite, a riparare il danno. Eh, ma il danno è grave. Non mi faccia mettere le mani avanti. Noi qui ci proviamo. Non è detto che si risolve. Noi proviamo. Noi non li facciamo però i miracoli. Quando in realtà il miracolo d'ingegno è la catena stessa per cui già da domani altri interverranno sulla lavatrice, sul motorino, sul premolare o sul governo del paese e ancora una volta diranno qui, signori, è tutto da rifare. Colpa di altri. Noi ci proviamo. E speriamo bene. Noi, noi ci proviamo. Grazie a tutti.